Sonia, dove si trova Umago? Umago si trova in Croazia, a soli 40 km da Trieste e quindi il Casino Elit si trova all'interno del villaggio turistico Catoro. Per cui una zona turistica bellissima dove potete venire a trascorrere le vostre vacanze e soprattutto a godervi anche il Casino. Perché la fortuna galoppa. Ah beh certo, galoppa è veramente veloce 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 e fa vincere tanti soldini ma lasciamo perdere questo, per contattarvi Sonia. Allora Sonia io so che avete dei contatti perché so che c'è tantissima gente che vogliono venire al Casino Elit. Allora possiamo dare dei recapiti, il sito internet, vai. Certo assolutamente, quindi per poter usufruire delle nostre promozioni ed essere aggiornati su tutte le promozioni varie ed eventi vari potete visitare il nostro sito internet che è www.eliteumag.com Mi raccomando, contattatelo perché è sempre aggiornatissimo. So che lo continuate a aggiornare voi eh. Comunque bisogna anche dire che il Casino Elit si trova all'interno di questo bellissimo albergo che è il Melia Coral ed è un albergo a 5 stelle. Quindi con tutti i servizi dei quali gode un albergo a 5 stelle. Che bello. Senti Sonia, io so una cosa, che noi ci troviamo qua questa sera perché festeggiamo che cosa? Il secondo... Il secondo anniversario del Casino Elit di Umago quindi. Ci sarà una bellissima festa con tante sorprese, cabaret, musica, spettacolo e divertimento a non finire. Per cui amici di Bar Television non andate via perché ci divertiamo. Anzi adesso diamo la linea a Bar Television e poi ritorniamo qui con Sonia perché dobbiamo parlare ancora del Casino Elit. Vai! Ed ora cari signori c'è qua disponibile per voi lo champagne moët. Prendete i vostri calici, facciamo un brindisi tutti insieme perché fra poco entra anche una bellissima torta. E cantiamo tutti insieme tanti auguri al Casino Elit di Umago. Ricordate il Casino Elit è qua per voi. 360. Gradi! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri al Casino Elit. Tanti auguri a te. Grazie! E abbiamo un'altra grande sorpresa di Bar Television questa sera qui a Dumago in Croazia al Casino Elite La nostra sogna, io dico nostra perché ormai siamo di famiglia qua al Casino Elite Siamo sempre gentilmente ospitati, canterà Io Vagabondo Noi siamo i vagabondi, voi siete la nostra famiglia Sogna! Noi siamo i vagabondi, voi siete la nostra famiglia qua al Casino Elite Oh eh, una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle Sul mio corpo è il chiarore delle stelle Chi sa dov'era casa la mia E quel bambino che giocava in un cortile Che bello, siamo ritornati, mamma mia che festa che abbiamo assistito Ci siamo veramente divertiti Sonia Infatti è stato bellissimo Ah, allora senti Sonia, io so che il Casino Elite però per concludere in bellezza Dobbiamo dire che è aperto 24 ore Su 24, tutti i giorni dell'anno Avete capito? 365 giorni e 366 se ben gestire Per cui giocate sempre e vincete Poi Sonia, io voglio dire una cosa So che avete delle promozioni particolari con l'hotel Infatti per i nostri giocatori siamo convenzionati durante tutto l'anno Nel periodo di bassa stagione che va più o meno fino agli inizi di maggio Il prezzo promozionale è di soli 29 euro per persona a notte In questo bellissimo albergo a 5 stelle che è il Melia Coral con inclusa mezza pensione Sonia, mi sembra di aver detto tutto No, ci sono ancora vari eventi del Casino Elite I quali è molto importante menzionare Tra i quali ci sono le estrazioni La prossima è il 24 marzo Poi c'è l'altra il 21 aprile La prossima il 12 maggio Il gran finale il 16 di giugno Quindi diamo in palio ricchi premi che sono in denaro E il 16 giugno che cosa estraete? Ben 8.000 euro È il premio principale Beh, a questo punto possiamo veramente concludere E dire che qui al Casino Elite insomma non manca niente A Umago in Croazia, mi raccomando Guardate, la simpatia di Sonia è pronta Insieme a tutto il suo staff di questo bellissimo Casino Elite Ad accogliervi qui in Croazia Perché al Casino Elite il divertimento non manca mai